Ecco un nuovo centenario, si aggiunge al lungo elenco dei giocatori che hanno raggiunto questo precisoso traguardo. Mattia intanto, io lo dico che lui è, sapete che i prodotti ci sono quali denominazioni di origine controllata e ci sono i denominazioni di origine controllata garantita, Mattia è anche garantita, c'è scritto D.O.C.G. perché lui è del 92, arriva da noi nel 2002 perché allora non c'erano i ragazzini, ma aveva provato addirittura nel 2001, giusto? E poi si è arrivato nel 2002, io mi sono andato a vedere la relazione di Bertani, eri forte allora quando ti avevano segnalato, sto scherzando, quindi lui fa l'esordio, me lo ricordo bene con il Vittoria Pilsen a Milano, entro i 5 minuti, poi il ritorno l'avresti giocato, l'avresti giocato tutto. E siccome io sono un tifoso che di mestiere fa l'amministratore delegato del Milan, ma se potessi dire io, non faccio l'allenatore purtroppo per me, se dovessi dire quale è stato la partita che hai fatto meglio di tutti e cento, io dico il ritorno a Milano con il PSV Eandoven che fa una grandissima partita che poi fa male, quando ci saluta il Boa, dove è il Boa? Ecco, non so se te lo ricordi, tu fai una doppietta perché sai, essendo qui da 30 anni potrei raccontare qualunque tipo di cosa, però tu mi ricordo bene quella partita fantastica, io ho due cose da chiederti, visto che vieni premato e ti premio a nome del Presidente Berlusconi ho due richieste da farti, la prima, voglio dire, passa via qualche cosa che si può buttare dentro in cento partite pur facendo il terzino, quindi due richieste, giocare sempre come il ritorno col PSV e fare il primo gol, quanto prima senza aspettare la duecentesima o la trecentesimo. Abbandono gli scherzi, complimenti. inoltre, 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 in via 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 Sì, siamo, siamo al massimo, siamo al massimo, siamo al massimo, vai, 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 al massimo, accelera, 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 vai, via, 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 via Tutto uguale Tutto uguale Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ok, recupera Veniamo E lo stesso Arriviamo lì Due piegamenti E si torna indietro Lì sulla linea già bianca E si torna bianca e si torna il cambio al compagno Aspetta, eh Aspetta Hai capito com'è? Sicuro che hai capito? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Arretto Vai, vai Due piegamenti Vai, vai Vai, vai Vai, vai Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione